Il mondo che descrivi sembra senza speranza. Come hai lavorato con gli attori per ottenere quell'effetto così poetico? Come hai lavorato con gli attori. di questo mondo, ma questo non significa che non c'è l'amore, questo significa che magari fisicamente questo è impossibile, ma questa idea trascendentale funziona. Perché hai scelto come riferimento Harry Rousseau e Marc Chagall? Il tuo film sembra avere anche dei riferimenti all'atmosfere dei film di Bakhtiar Khudej Nazarova? Sì, l'unico non ho visto, ma io amo Khudej Nazarova, il suo film «Kosh Bakosh». «Kosh Bakosh» io molto amo, io credo il suo sredino-azietto Filippo, è un grande режissore, io lo amo molto. Cosa riguarda... perché ho scelto, perché ho scelto, questo è davvero, è davvero e davvero un buon esatto, un buon esatto, un buon esatto, un buon esatto, un buon esatto. Per quanto riguarda l'aspetto creativo, linguistico e stilistico, perché, per esempio, hai scelto il fiore bianco? E l'idea del vestito rosso di Saltanat, che all'improvviso diventa nero come un presentimento luttuoso, come l'hai avuta? che ci hanno fatto questo... Ci ha bisogno di fare tutto il viso, tutto per il momento, tutto il punto di scelto, che sia stato velozato in questo senso. E il colore è il colore, il colore è il colore, il colore è il colore. Il colore è il colore, il colore è il colore, il colore è il colore. Il colore è il colore. quindi tutto è interesse, tutto questo intervento, tutto questo intervento, tutto questo intervento senza nessuno. Della colonna sonora che ci racconti, sembra un elemento molto importante. Spazialmente per il film ha scritto Norasol Nuridin, è il suo primo lavoro nel cinema. È un molto молодo compositore e ha potuto raccontare una storia di amore, una riuscita di amore, ma in questo modo è molto spaziale, molto, io vorrei dire, non fuori. Dopo quello che è successo a Sarebrennikov e a Panai, non hai paura che un film così possa creare dei problemi anche a te? Il mondo è stato molto semplice che io posso dire solo che viviamo e vediamo.